Andrew o Andrea? All'anagrafe Andrea indubbiamente, poi i miei lavori li firmo con il nome d'arte, Andrew Rambler. I tuoi lavori, e veniamo ad un'altra, in questo momento che cosa stai facendo? Attualmente sono un collaboratore, coordinatore progetti culturali dell'Accademia delle Belle Arti. Vengo da una bellissima esperienza che è quella di una docenza in una scuola superiore, dove ho avuto l'onore assoluto di tenere due corsi e stare a contatto con gli splendidi ragazzi. I due corsi erano uno di video e uno di web design. Quindi la tua preparazione, il tuo percorso scolastico, qual è stato? Il mio percorso scolastico è stato, diciamo, non tanto convenzionale con quelli che poi sono stati i miei risultati finali, cioè la mia ultima scelta che è appunto quella dell'Accademia delle Belle Arti. Ho studiato, beh, superiore, ho fatto il conservatorio, la scuola annessa al conservatorio, successivamente un tecnico e quindi sono diplomato come tecnico elettrico-elettronico. e la scelta poi che mi ha portato all'Accademia delle Belle Arti è, boh, non lo so, non so nemmeno spiegarlo, però c'è stata appunto questa, indubbiamente mi accorsi che quella del tecnico non era la scelta ideale. Ecco, che cos'è che ti ha fatto cambia strada? Mi interessava appunto l'arte legata alla tecnologia, cioè quindi sono sempre stato un cosiddetto oggi smanettone, tra virgolette, mi piaceva, sono sempre stato molto curioso per qualsiasi cosa. La mia laurea, diploma di laurea in nuove tecnologie per l'arte, la triennale, specialistica in visual e motion design. Le tue scelte sono state tue personali o c'è stata l'influenza, non so, della famiglia? Le tue scelte sono state mie personali, ho sempre sbagliato o in qualche modo ho fatto bene, le cose giuste, comunque sempre scelte dettate da esperienze mie, comunque mie in prima persona. E questo potrebbe essere il consiglio da dare ai giovani forse, di andare per la propria strada? Qual è il tuo consiglio? Il mio consiglio è fare in assoluto quello che uno si sente di fare, perché appunto la vita è vita e non deve essere sopravvivenza, quindi magari rimanere un po' meno legati a quelle che possono essere, che ne so, convenzioni o quant'altro, ma piuttosto di lasciare libero spazio a quelle che sono le sensazioni, istinto e passione. E guardando a domani cosa vedi? Il prossimo progetto? Vediamo, vediamo. Io sto lavorando molto appunto con il video, il principal modo con il videomapping, per ora questa è la mia direzione, poi vediamo, ovviamente si cambierà, si modificherà il percorso, perché nel nostro lavoro TV per forza deve essere un po' come l'acqua, cioè modificare la forma ma mantenendo comunque la stessa sostanza, quindi allargarsi, trovare capillari, intercapedini e quindi entrare dove è possibile. Sì, possiamo dire che con il tuo lavoro modifichi la realtà mantenendola, cioè un po' così. Ovviamente con il lavoro in videomapping sì, sono in qualche modo un illusionista, faccio sparire, faccio apparire cose, faccio trasformare ambienti. Che cosa faresti sparire? Questa è una domanda difficilissima, sarei troppo poco politically correct.